If I could embrace your brightness, sweet girl If you could feel the happiness I've gone I'm trying to make you understand Don't be afraid to take my hands, sweet girl Sono Cristiano Milanesi, mi occupo dell'azienda di famiglia Siamo mio cugino Andrea, mio padre e mio zio Alleviamo 260 capi di vacche da latte In un'azienda che si estende in una superficie di 100 ettari circa La nostra attività è iniziata nel 1937 E il latte che produciamo viene destinato alla produzione di grana padano Qualche mese fa abbiamo deciso di rinnovare il nostro impianto di mungitura Perché iniziavamo ad avere problemi in termini di resa e qualità delle produzioni Gli interventi di manutenzione straordinaria erano ormai all'ordine del giorno Abbiamo optato per la soluzione proposta da Milkline Perché ci è sembrata l'unica in grado di coniugare tecnologia ed efficienza Ad un costo di investimento adeguato Milkline ha progettato e realizzato l'impianto sulla base delle nostre necessità Avevamo spazi limitati ma grazie a Milkline abbiamo potuto aumentare il numero totale di posti di mungitura Senza dover intervenire sulla struttura di stalla Le operazioni di montaggio sono state veloci E nel frattempo ci hanno installato una sala di mungitura provvisoria Per assicurare continuità alla nostra attività Oggi abbiamo una sala di mungitura parallela a 14 più 14 con sistema Milk Pro P4C integrato Abbiamo inoltre dotato ogni animale del collare ruminat Tra l'identificazione, il rilevamento dei calori e dell'attività ruminare Tra l'identificazione, il rinuncio del collare di in cuore Abbiamo scelto Milkline Perché era in grado di fornirci ogni tipo di equipaggiamento Basti pensare al Milkro P4C Un sistema innovativo di mungitura per singolo quarto Da quando utilizziamo questo sistema Abbiamo sensibilmente ridotto i casi di mastite nei nostri animali Con un immediato risparmio economico Il sistema di mungitura per singolo quarto Evita i casi di sovramungitura E quindi il benessere dei nostri animali è garantito Così come la qualità della nostra produzione Inoltre abbiamo deciso di abbinare al Milkro P4C Il Milkrip Un'impugnatura di nuova generazione Che ci facilita nell'operazione di mungitura Il Milkline ci ha installato Anche un nuovo sistema del vuoto con inverte Grazie al quale tramite una continua regolazione Di velocità dalla pompa Il consumo di energia elettrica Viene ottimizzato Garantendo al tempo stesso un livello di vuoto costante Grazie a Milkline abbiamo un totale controllo Della mungitura e della gestione della mandria Tutti i sistemi Milkline Sono integrati col software Milkron HM Che ci permette di avere in tempo reale Tutti i dati degli animali presenti nel levamento Alla fine di ogni mungitura controllo i dati più salienti Ovvero la produzione di latte Gli animali in calore Quali con ruminazione anomala E gli allarmi di conducibilità Questo mi consente di ottimizzare la fertilità E di prevenire eventuali problemi di salute In caso di necessità siamo affiancati Da personale tecnico qualificato Il servizio di assistenza è ottimo La sala di mungitura Milkline è perfetta per le nostre esigenze Siamo molto soddisfatti della scelta che abbiamo fatta Siamo molto soddisfatti della scelta